Ciao e bentornati al mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricate nel canale ma cliccando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Regalami un bel like e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata e condividi i miei video ma anche il mio canale netto e social in modo tale da farmi pubblicità così diventeremo una family sempre più grande, una family di cucito sempre più grande. Più iscritti farò e più contenuti, tutorial, chiacchiere porterò nel canale. Quindi è interesse di tutti, non solo il mio. Oggi finalmente chiedo scusa a Yaya Tessuti, vi faccio vedere le stoffe che mi sono arrivate un po' di tempo fa, però purtroppo ho avuto le problematiche di mio padre in ospedale come molti di voi sanno, lo racconterò in un vlog a parte. Bene andiamo subito a vedere le stoffe fantastiche di cagliatessuti. La prima è questa bellissima fantastica, bi-elastica, favolosa, bi-elastica, quindi super adatta per fare maglie tipo questa che indosso in questo momento. Possiamo fare delle fasce per capelli, possiamo fare degli abiti lunghi per l'estate, dei copricostumi, del pareo. Possiamo fare tanto, tantissimo, gonnelline per l'estate, veramente tanto, tanto, tanto e io la adoro. Ha dei colori spettacolari. Andiamo a vedere la seconda. Guardate questa meraviglia, quindi un po' trasparente. Con questo possiamo fare di tutto. È un tessuto fermo, quindi non è un tessuto elasticizzato, quindi lo puoi utilizzare per fare un vestito lungo, per fare le camicette, per fare gonne lunghe corte, anche semplice con l'elastico, per fare pantaloni, fasce per capelli come ti ho fatto vedere nei tutorial, perché è un tessuto fermo e lo possiamo utilizzare per fare anche quelle, magari abbinato a un bel abito, bello lungo, bellissimo. Quelli super vaporosi, fantastici, io lo voglio assolutamente fare. Fammi sapere che cosa faresti con questa stoffa. Te la faccio vedere meglio. E poi io anni fa avevo fatto una sorta di camicetta con tutti i volants, che tra l'altro era in un numero super vecchio di La Mia Boutique. Con questa stoffa si può fare quel modello lì, però adesso vediamo se fare un vestito lungo per l'estate, proprio di quelli proprio belli, lunghi, fantastici, oppure fare quel tipo di camicetta, che comunque ha bisogno di molta stoffa, perché tutta vola fantastica. Altro tessuto che io ho veramente, mamma mia, guardate la meraviglia. Non so se si veda, ma è qualcosa di pazzesco, pazzesco. Questa stoffa è pazzesca. Tutti i fiori, vedete i fiori bellissimi. Guardate i fiori meravigliosi. Mamma mia. Con questo ho già deciso, ci faccio assolutamente un vestito. Un vestito di quelli estivi. Adesso devo decidere il modello preciso, anche se ne ho visto di modelli. Magari vi faccio un modello di La Mia Boutique o Burda. Adesso vediamo dove lo trovo. Carta Modelli Magazine, in modo tale che possiate farlo anche voi. Se ne rimane di stoffa, con questa noi possiamo fare pantaloni palazzo per l'estate, bellissimi di quelli con la cintura elastica. possiamo fare sempre quel modello di camicetta, che ti ho detto prima, ma anche altri tipi di camicette. Delle gonnelline, belle, larghe, carine, a ruoto, a mezza ruota. E anche con questo si può abbinare la fascia per capelli, oppure un bel fiocco, un bel fioccone che magari dovete andare a un matrimonio. Vi fate un bel scignone, un bello scignone. Mettete un bel fiocco fantastico. Questo tipo di fiocco lo farò comunque nel mio canale YouTube, perché lo farò questo fiocco decorativo. Il Cadì, dovete sapere che è uno dei tessuti che io preferisco, forse il preferito, perché ha una resa pazzesca. Pazzesca, io lo adoro. E ho preso del tessuto di Cadì nero, che è leggermente elasticizzato, non tantissimo, però è un po' elasticizzato nella altezza del tessuto. Con questo cosa possiamo fare di tutto? Abiti, gonne, bluse, pantaloni palazzo. I pantaloni palazzo con questo tipo di tessuto di Cadì, che è freschissimo, perché sono tutti i tessuti estivi della nuova collezione di Yaya Tessuti. Con questi tu puoi fare dei pantaloni palazzo che con il Cadì, se tu rispetti il dritto filo, ti vengono dei pantaloni che userai fino a consumarli, da quanto sono belli, fantastici. Ovviamente puoi fare anche altri tipi di modelli di pantaloni, anche a sigarette, anche un pochettino più stretti. Puoi fare delle canotte, veramente. Io ho fatto tutta una collezione, per farti un esempio, e sfilate, per esempio ho utilizzato tessuto. Come tessuto ho utilizzato il Cadì ed è anche facile da lavorare, sia con la taglia e cuci, macchina per cucire e via dicendo. Fantastico. Dal video non so se si vede, ma è un colore meraviglioso. Anche questo è un Cadì, anche questo leggermente elasticizzato. Anche questo lo possiamo fare per fare pantaloni, bluse, top, pantaloni palazzo, vestiti, gonne, gonne lunghe, gonne, gonne a ruota, gonne a mezza ruota, vestiti, vestitini di tutti i tipi. È veramente fantastica. Allora, io con questa farò sicuramente un paio di pantaloni palazzo. perché? Perché in abbinamento questa stoffa meravigliosa, che come puoi vedere è esattamente in tinta. Il mio colore preferito, tu lo conosci bene. È un completo fantastico. Con questo puoi fare una blusa, puoi fare tante cose, però abbinato questo con questo, perché con questo puoi fare vestito lungo, puoi fare veramente tantissime cose. Però io vorrei ideare un completo, un completo con questi due, perché voglio fare il pantalone abbinato alla blusa. Sugli agli tessuti comunque tu puoi scrivere in privato nella loro whatsapp, ti sapranno consigliare in una maniera più professionale e hanno un gusto incredibile. Per cui se tu magari gli scrivi e gli puoi scrivere per esempio che devi andare a un matrimonio, che vuoi un certo tipo di modello con determinati colori, loro ti possono consigliare anche il combo di colori e di stoffe che possono andare d'accordo l'una con l'altra e poi tu magari puoi scegliere se ti piace o meno. Che dire? Io di questo tessuto non so che cosa dire perché io me ne sono innamorata. È una sorta di raso e la caratteristica è che la parte superiore è nera, la parte inferiore è così. Parliamone. Una meraviglia. Te lo faccio vedere in trasversale, vedi? Quindi con questo tipo di tessuto cosa possiamo fare? Vestito lungo, pantaloni. Io credo che anche qui farò un paio di pantaloni. Sì, basta benissimo però va bene anche. Devo vedere la lunghezza perché se fare i pantaloni è uno spreco di tessuto a quel punto mi conviene fare un abito. Un bel abito lungo magari di un modello diverso rispetto a quello che farò con l'altra stoffa perché ho proprio voglia di vestitini per l'estate. Con questi tessuti si possono fare anche i vestitini, quelli con il punto smock fatta a macchina che mi piacciono tanto anche quelli per l'estate. Ovviamente possiamo fare anche quelli quindi ma è un tessuto prettamente elegante per cui secondo me è un modello più più diciamo elegante e più carino. Cotone leggermente elasticizzato, un colore che io amo perché tra i miei colori preferiti sono il rosa ma anche il blu. Questo è un blu meraviglioso, un tessuto fantastico e con questo si possono fare pantaloni perché è un po' sostenuto quindi ci permette di fare o un abito a tubino classico di quelli tipo Chanel quindi tubino classico dritto oppure una gonna lo stesso a tubino ci vedo molto bene anche perché è bello sostenuto. Credo che io farò un abito con questo, un abito stile Chanel ed è veramente fantastica. Puoi fare anche un paio di pantaloni a sigaretta, anche delle giacchette per esempio di quelle giacchette tipo scaldacuore puoi abbinare per esempio abbinarlo con un abito ad esempio nero oppure panna quindi riprende questi colori e puoi fare la giacchettina, abbinarlo con una giacchettina con magari delle maniche a sbuffo se ti piacciono per utilizzarla nelle sere d'estate più fresche. Tessuto Chanel ed eccolo qui. Chi mi conosce sa che io sono un'adoratrice del marchio Chanel è il mio marchio preferito ovviamente mi baso anche molto su tutti i modelli creati da Coco Chanel. Ho portato qui sul canale YouTube tantissimi contenuti sulla vita di Coco Chanel e via dicendo quindi sapete chi mi conosce che io adoro Chanel. Con questo cosa si può fare? Una giacca. Questa è una giacca che non farò nell'immediato la voglio fare al più presto possibile perché sono da tanto tempo che non vi faccio un tutorial di una giacca quindi mi piacerebbe farvela vedere. Ve ne avevo partato uno di tutorial di una giacca presa da Burda Easy che era venuta veramente fantastica con questo giacca Chanel e se basta mi faccio anche il tubino. Il tubino sarebbe bellino anche questo perché poi è leggero perché è cotone si può fare un tubino oppure una gonna quindi classico giacca più donna oppure giacca più abitino magari di quelli a canotta di classici diciamo di Chanel. Tu che cosa faresti con questo tipo di gel di stoffa? Famelo sapere nei commenti. Terminiamo con altre due stoffe magnifiche che sono delle licre per fare magliette io adoro 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 le maglie come potete vedere se quando ho tempo faccio maglie perché con la taglia e cuci la punto copertura mi viene perfetta come anzi non come meglio che di quelle comprate che come quelle comprate meglio di quelle comprate e guardate che meraviglia bi elastica colori non belli ma di più super colorata con questa possiamo fare vari tipi di maglie magliette e magliettine se mi segui a che sfogliamo insieme la mia boutique burda style burda easy carta modelli magazine burda curvi la mia boutique curvi saprai che ci sono tanti modelli di maglia quindi per tutte tutte le taglie quindi questa io innamorata 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 ultima stoffa ma non per questa la peggiore ma anzi favolosa ecco c'è la qui elastica favolosa guardate che meraviglia unisce i fiori alle righe e con una base rossa con questa cosa possiamo fare questa possiamo fare pantaloni questo caso proprio larghi perché non è un tessuto molto sostenuto vestito con una ruota mezza ruota possiamo fare maglie magliette e magliettini tutti i tipi dimensioni e tipologie gonna lunga vestito lungo anche in questo caso anche un vestito per andare al mare molto fresco però è sprecata per fare un vestito per andare al mare no io non la farei mai un visito per andare a mare ma un bel vestitino magari per andare a mangiarsi una pizza per non so una cena con le amiche una passeggiata è veramente stupenda stupenda su questo devo decidere ancora che cosa fare una maglia sicuro perché è un bel po di stoffa quindi mi permetterà magari di fare anche un un paio di pantaloni anche qua perché poi sono le cose che poi alla fine metto di più io alla fine mi verso sempre nello stesso modo perché perché conosco il mio corpo fatto tra l'altro una serie di video dove ho cercato di insegnare diciamo come l'abbigliamento sia importante per valorizzare il nostro corpo quindi non tutto l'abbigliamento a noi sta bene ma seconda delle forme del corpo ci sono dei capi che ci stanno meglio e capi che non ci valorizzano quindi io so perfettamente essendo un fisico a clisidra quali sono la tipologia di modelli che a me stanno bene e quindi faccio poi alla fine sempre quelli abbiamo terminato spero che il video ti sia stato utile fammi sapere se conosci gli agli assi tessuti nei commenti se ti sei trovata bene se ti sono piaciuti queste piaciute queste stoffe che sono le stoffe le nuove stoffe estive di agli a tessuti per qualsiasi cosa mi raccomando voi potete scrivere direttamente a loro alla loro chat e ti lascio giù il link di tutti il sito internet il numero per poterli contattare ciatta chattare su whatsapp e ti sapranno consigliare al meglio lasciami un commentino e noi ci vediamo al prossimo video ma prima ti voglio mandare un grande bacio sartoriale ma soprattutto terapeutico perché il cucito e soprattutto terapia parola di psicoterapeuta un bacio e al prossimo video